Bene, buongiorno a tutti, benvenuti all'ultima conferenza stampa di questo Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Abbiamo qui con noi il moderatore della tavola valdese, pastore Eugenio Bernardini, che è stato riconfermato oggi per il quarto mandato consecutivo e ha appena tenuto il discorso rivolto alle Chiese. È stato un Sinodo molto intenso, molto importante, con alcuni risvolti, alcune novità, molti ordini del giorno approvati. Il discorso di saluto e conclusivo si è però soffermato, moderatore Bernardini, su questo testo, solo accogliendo chi soffre si può accogliere Dio. Questo è stato appunto il messaggio centrale dai Galati 5.22. Si è parlato di migrazioni, ma anche di crisi economica, di libertà religiosa, di ecumenismo, a pochi mesi anche dalla visita di Papa Francesco al Tempio Valdese di Torino. Ed è sorta anche qualche polemica in merito al messaggio di risposta. Alcuni giornali, diciamo, non tutti, uno in particolare ha frainteso il messaggio e quindi poi si è dovuto intervenire per sistemare e raddrizzare, così si dice, il tiro. Io darei la parola al moderatore Bernardini per partire da questo punto centrale che è quello dell'accoglienza. Lei ha rivolto anche alcune critiche all'uso strumentale della politica. Sì, questa è stata, come ho detto, è ancora un'estate molto calda, non soltanto dal punto di vista meteorologico, ma dal punto di vista della dramma dei profughi che giungono in Europa è un'estate tremenda. Proprio di oggi sono i dati della provenienza che mi hanno molto colpito, delle provenienze dei profughi che arrivano praticamente soltanto, principalmente da quelle regioni del mondo, Siria, Libia, Eritrea, distrutte, devastate dalla guerra, dalla violenza feroce, con milioni di sfollati che cercano la sopravvivenza spostandosi nel territorio, nei paesi vicini e alla fine, senza speranza alcuna di poter ricostruire un'esistenza minima in quelle regioni, cercano una fuga, un'alternativa verso l'Europa. Beh, in questa estate così calda ci sono state dichiarazioni politiche, sono stati solleticati, sono stati solleticati sentimenti che ovviamente abbiamo tutti noi quando affrontiamo drammi di questo genere e soprattutto quando vediamo le conseguenze vicino a casa nostra. ci sono state anche delle polemiche specificamente indirizzate all'opera di aiuto, di accoglienza, ma anche di richiamo alla responsabilità degli europei nei confronti di questo dramma, quasi che questo comportamento responsabile delle Chiese cristiane fosse un incentivo per questi viaggi della disperazione. Io credo che noi dobbiamo con molta chiarezza e con molta nettezza ricordare al contrario che è proprio l'opera disinteressata delle Chiese cristiane in Italia che ha consentito a questo Paese negli ultimi vent'anni di accogliere ormai quella che è l'8% della popolazione italiana proveniente da altri continenti, di poterlo fare con problemi che indubbiamente ci sono ma che in fondo non sono stati troppo gravi. Se pensiamo all'esperienza di altri Paesi di più lunga immigrazione come Francia o in Gran Bretagna. Quindi bisogna piuttosto essere riconoscenti a chi come le Chiese cristiane in Italia hanno svolto e continuano a svolgere quest'opera spesso di supplenza e lo fanno non solo in modo disinteressato ma anche dignitoso perché chi arriva nella nostra casa europea sono delle persone, prima di tutto delle persone, a cui va riconosciuta la loro dignità. Poi naturalmente ci sono i problemi che anche noi riconosciamo e quindi l'appello che lanciamo continuamente alle istituzioni europee di cercare delle soluzioni eque, praticabili, dignitose, di uscire dall'emergenza per avere una strategia, un piano che se non altro limiti le sofferenze di tanti che sono costretti a questi spostamenti drammatici e anche alle popolazioni che li vogliono accogliere, li accolgono, ma spesso non sono preparati a farlo. Restiamo ai lavori di oggi, alla giornata di oggi, la presenza importante di Monsignor Bruno Forte che è il Presidente dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo della CEI, insieme a Don Cristiano Bettega che è il Direttore e il Vescovo in merito di Pinerolo. Un messaggio forte ricordava che la lettera di Francesco per tornare alla visita del 22 giugno scorso era una lettera vera, bella, aperta e onesta. Lei oggi nel suo discorso ha voluto rispondere anche alle parole di Bruno Forte. Sì, il messaggio di questa mattina di Monsignor Bruno Forte, rappresentanza dei Vescovi italiani, è stato molto importante, almeno per due motivi. Il primo è che ha confermato che in questa nuova pagina ecumenica che si sta aprendo nel nostro Paese, parliamo tutti la stessa lingua e ci comprendiamo, non ci sono fraintendimenti. Le dichiarazioni impegnative del Papa, il suo discorso che ha toccato molti aspetti, ma in particolare si è rivolto a noi con un'impegnativa richiesta di perdono. Parliamo la stessa lingua perché vogliamo impegnarci in un cammino nuovo di ricerca di soluzioni sulle questioni teologiche, religiose, che ci hanno diviso in modo a volte molto conflittuale e drammatico nel passato, ricercando anche delle soluzioni nuove e creative dal punto di vista teologico e anche perché si conferma questa collaborazione che c'è, diciamo, nelle buone pratiche di servizio tra cattolici e evangelici in questo Paese, una strada sulla quale vogliamo andare avanti. Naturalmente ci sono anche altri aspetti su cui siamo molto più lontani, ma questo è stato importante. Quindi parliamo la stessa lingua e tra il Papa, che è il Vescovo Universale dei Cattolici, e i Vescovi di questo Paese, l'Italia, i due messaggi ci hanno detto, il Papa Giugno con in aggiunta il suo messaggio augurale per questo Sinodo, la seconda volta che accade, e il messaggio dei Vescovi italiani, ci dicono che c'è una consonanza, c'è una comunione di vedute. La risposta del Sinodo di fronte a questi eventi è stata anche questa positiva, e ricordo che tra cristiani c'è una modalità di comunicazione, che non è quella che a volte riscontriamo in altri ambiti. Tra cristiani, quando si parla veramente da cristiani c'è autenticità, c'è ascolto, non c'è fretta e soprattutto non si banalizza. Si cerca di capire con grande serietà le motivazioni gli uni degli altri. Ciò rende le nostre conversazioni, i nostri dialoghi, i nostri pesi di posizione a volte articolate, complesse. Però è necessario fare così, anche per il rispetto della nostra storia, della nostra identità e anche delle questioni molto delicate che affrontiamo insieme. Con questo ancora una volta abbiamo ribadito e sciolto il dubbio sul fatto che sia stato accolto meno il messaggio di perdono rivolto dal Papa, che è stato accolto ovviamente dal Sinodo. Uno dei temi principali che viene discusso ogni anno è quello dell'8x1000. Si è parlato di una diversa gestione dei fondi 8x1000, ma si è parlato anche dell'utilizzo di questi fondi anche per, anche se la parola è brutta, per le emergenze, per la parola che viene accomunata al fenomeno migratorio, quindi per questo dico che è utilizzata a sproposito, però per le emergenze e in questo caso i fondi 8x1000 hanno avuto anche questa utilità. Sì, questi, lo ricordiamo sempre, noi abbiamo una grande consapevolezza di ricevere il finanziamento che deriva dalla quota dell'8x1000 delle tasse delle persone fisiche in Italia, dei contribuenti, come denaro pubblico, come denaro non nostro. Per questo lo utilizziamo per progetti di solidarietà sociale, sanitaria, educativa, culturale sia in Italia che all'estero. Quest'anno il Sinodo, proprio rendendosi conto della difficoltà in cui si trova il nostro Paese da tantissimi anni e la crisi economica più lunga e profonda che stiamo vivendo dal dopoguerra, ha deciso di dedicare al nostro Paese, all'Italia, una quota di risorse maggiore rispetto a quella che avevamo fatto negli anni scorsi, cioè il 60% di quello che abbiamo ricevuto da quest'anno, quest'anno lo abbiamo dedicato agli aiuti in Italia. Ci ha molto colpiti quest'anno, per esempio, più che negli anni scorsi, ricevere moltissimi progetti di aiuto, di sostegno da parte di molte associazioni di familiari, di persone che vivono con handicap fisici o psichici, che si sono trovate, queste associazioni ai genitori improvvisamente con un taglio o addirittura senza alcuna risorsa di aiuto pubblico e quindi noi abbiamo compreso la necessità di soccorrerli comunque nei limiti delle nostre possibilità. Noi abbiamo anche ribadito la nostra volontà di continuare su questa strada e cioè di continuare ad evolvere in Italia all'estero per le emergenze ma anche per progetti qualificati e programmati di intervento questi denari che sono denari pubblici e come tali noi li consideriamo. anche come responsabilità di utilizzo con rendicontazioni trasparenti in modo che non solo gli specialisti ma chiunque sia interessato possa sapere come siano utilizzati, da chi e per quali progetti. di oggi proprio il dibattito, non è solo di oggi ma oggi è ritornato sulle prime pagine dei giornali il tema delle unioni civili e invece è stata approvata ieri sera per un ordine del giorno relativo alla liturgia per le coppie dello stesso sesso. Questo è un tema che ha interessato anche molto i giornali e hanno pubblicato oggi anche l'approvazione di questo testo. Di cosa si tratta? Si tratta di un percorso che noi stiamo, che le nostre chiese stanno facendo. Ricordo che nel 2010 il Sinodo, dopo un lungo periodo di discussione, decise che in determinate situazioni era possibile accogliere le richieste di benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso omoffettive, come diciamo normalmente, una decisione nata da un confronto interno alle nostre chiese sulle basi bibliche, teologiche e anche della tradizione ecclesiastica che fino a 2010, per quanto riguarda le nostre chiese, non aveva reso possibile questo riconoscimento e naturalmente dopo quella decisione abbiamo dovuto dare seguito, come accade in tutte le chiese cristiane quando si prendono queste decisioni che riguardano questioni liturgiche, definendo le liturgie ufficiali per questo tipo di cerimonie. Dal 2010 al 2015 vuol dire cinque anni. Ci abbiamo messo del tempo perché riconosciamo che è complesso affrontare questo argomento, sapendo che si tratta di un argomento da assumere con responsabilità e delicatezza perché chi vive la condizione omosessuale e chiede una benedizione sulla unione della propria coppia, vive questo con una intensità determinata dal fatto che è l'unica possibilità al momento di riconoscimento pubblico. È una questione diversa dal matrimonio, noi la trattiamo anche con un atteggiamento, insomma, riconoscendo questa diversità, però di unione si tratta. E che cosa significa unione? Significa che ci si assume pubblicamente la responsabilità dentro la coppia di essere l'uno per l'altro o l'una per l'altra, di assistersi, di essere fedeli, di impegnarsi in una coesione che duri nel tempo, elementi che sono da considerare molto positivamente, sia dal punto di vista cristiano, perché è una declinazione dell'amore del prossimo, occuparsi del partner, sia dal punto di vista sociale, perché una società è più forte nella misura in cui i suoi membri vivono con responsabilità e coesione le proprie relazioni, si aiutano. Non si può pensare che la società sia un insieme di individui sostenuti dalla welfare, sostenuti dalla società in senso indistinto. Quindi, insomma, rinforzare la responsabilità, la coesione, l'accoglienza anche l'uno dell'altro è importante. Inoltre, ricordiamo come si fa a non tenere conto del fatto che noi non vogliamo, cioè, noi non possiamo più stereotipizzare. Ci sono necessità di distinzione. Quando l'amore nasce anche tra persone dello stesso sesso, perché si vive questa condizione e questo amore è sincero, vuole svolgersi in maniera responsabile, non è possibile altra forma di unione, tipo il matrimonio. Le nostre chiese hanno ritenuto che ci fossero le basi sufficienti per un riconoscimento pubblico, una benedizione anche di queste unioni. Ricordo anche che questa riflessione ci ha portato ad allargare lo sguardo più in generale anche sulle unioni tra uomini e donne. Noi avevamo, abbiamo ancora un documento guida sinodale sulla famiglia dell'inizio degli anni 70. abbiamo capito che era arrivato il momento, anche grazie a questa riflessione, di riprendere il tema e rifare il punto della situazione. E proprio questo sinodo giunge, è giunto, un documento non conclusivo, ma insomma in stadio piuttosto avanzato, in cui comunque si acquisisce che non possiamo più, come cristiani, parlare di famiglia, ma di famiglie al plurale, di unioni in cui il matrimonio tra un uomo e una donna, coi figli, eccetera, è una forma certo molto importante, anche centrale nella società, ma ormai nella vita normale, quotidiana che viviamo, anche come cristiani, anche nelle chiese cristiane, sono diffuse altre forme di unioni, di convivenze eterosessuali e omosessuali. Noi ci auguriamo di poter avere per l'anno prossimo, dopo un'ulteriore consultazione con le chiese locali, un documento possibilmente definitivo che ci potrà senz'altro aiutare anche per l'azione pastorale che noi svolgiamo verso le famiglie e avremo anche un riferimento per il dibattito che in Italia c'è. Sembra ora che possa essere alle porte un provvedimento di riconoscimento delle unioni civili perché su questi temi che hanno una particolare sensibilità etica è evidente che l'apporto delle chiese può essere importante per la comprensione che ne hanno gli italiani. Un'ultima mia domanda, prima di dare la parola ai colleghi giornalisti, tra l'altro ricordo lo streaming e la diretta su Radio Bayquit, e la differita su Radio Voce della Speranza. Lei ha parlato di questo lavoro delle chiese, dell'essere cristiano, come un mestiere che è quello della diaconia e della predicazione. Si è parlato anche ovviamente molto di opere valdesi. Sì, ho usato l'espressione mestiere per dire che è proprio la specialità dei cristiani. Noi qualche volta i cristiani e le chiese normalmente vengono confuse come se fossimo un partito politico. E quindi ci viene reso conto delle nostre scelte sulla base della comprensione che questa o quella forza politica hanno dei problemi. E quindi veniamo schierati da una parte o dall'altra. Non che le chiese e i rappresentanti delle chiese siano esenti da qualche responsabilità. Qualche volta diciamo che anche forse il nostro comportamento non è limpidissimo, non è così facilmente comprensibile. Però credo che sia proprio una responsabilità in un tempo molto problematico, difficile come quello che stiamo vivendo, in cui, come ho detto, ciascuno faccia il proprio mestiere. Il mestiere specifico dei cristiani è quello di rispondere, corrispondere al fatto di essere discepoli di Gesù, che ha dato un insegnamento importante, che caratterizza comunque la vita di chi si dichiara cristiano, e il servizio, cioè l'aiuto in vari modi nei confronti del prossimo, non è un modo di dire. È un aspetto fondamentale dell'identità cristiana, così come quella della predicazione, cioè di annunciare la grazia di Dio in Gesù Cristo. Si tratta, cioè, di accompagnare un buon insegnamento a una buona pratica, con una buona pratica. Si tratta di dire parole giuste e buone e praticare questo insegnamento. E noi pensiamo che abbiamo la responsabilità anche di proporlo a chi cristiano non è o non si dichiara tale, e pensiamo che sia anche giusto proporre le nostre istanze anche alle istituzioni di questo Paese o dell'Europa, naturalmente nella distinzione dei ruoli. Noi abbiamo, anche in questo sinodo, quindi affrontato vari problemi relativi a questo servizio di aiuto, che si svolge in molti campi della nostra società, notando che sia il sistema, diciamo, più istituzionale del servizio, che nel linguaggio biblico si chiama diaconia, servizio, lo abbiamo in questi anni di grandi difficoltà per il nostro Paese rafforzato, ma sono nate anche una serie di esperienze di aiuto, diciamo, più leggero, tramite le nostre chiese locali per le persone bisognose. Questa unità di buon insegnamento e buone pratiche in questo sinodo del 2015 l'abbiamo, credo, particolarmente vissuto, discusso, e le nostre decisioni spero potranno rinforzare sia l'una che l'altra cosa. Grazie, pastore Bernardini. È l'ora dare la parola ai colleghi giornalisti, ricordando anche che il materiale del sinodo è possibile recuperarlo attraverso il sito di Radio Bayquit www.rba.it, di riforma.it, settimanale anche riforma, e dall'Agenzia Stampa Neve che ha curato l'ufficio stampa del sinodo. Prego, vi presentate nome e cognome. Laura Caffagnini, Vita Nuova, settimanale, Cattolico di Parma. Chiedo al moderatore la richiesta di Papa Francesco di perdono per le ostilità di secoli, anche al riconoscimento delle ricchezze della Chiesa Valdese, e in più il tenore della lettera che il sinodo gli ha mandato, questo spirito di riconciliazione, potrà, secondo lei, portare anche alla possibilità di avere una celebrazione dei 500 anni della riforma in Italia, diverse dal tenore che hanno avuto le celebrazioni degli altri centenari, e quindi portare, fare queste celebrazioni in uno spirito ecumenico e magari anche con iniziative condivise, in modo che ci sia una rilettura di questa memoria, come memoria positiva, certo negativa, e quindi ancora con una richiesta di perdone per le atrocità commesse, però positiva nel senso di vedere le istanze di questo movimento che è diventato Chiesa, che cosa di buono hanno portato, e anche il risveglio biblico che hanno portato, che hanno influenzato positivamente anche il cattolicesimo. Grazie anche per aver ricordato il cinquecentenario della riforma, che è uno degli altri temi affrontati anche dal sinodo. Luca Negro, riforma, vorrei solo capire meglio perché ha definito più volte questo sinodo un sinodo particolare. Grazie. Altre domande? Intanto diamo la risposta al moderato. Nel 2017 ricorrono i cinquecento anni della riforma protestante, perché si fa riferimento all'inizio dell'opera di discussione teologica di riforma della Chiesa avviata da Marti Lutero in Germania alla fine di ottobre, 31 ottobre del 1517. Come ogni celebrazione, si guarda al passato per comprendere meglio quegli avvenimenti, ma soprattutto per collocarsi, come è stato detto in sinodo, nel qui e nell'ora. Cioè nel contesto attuale, con dei principi che naturalmente devono essere adeguati alla situazione attuale. Beh, se quella del 1517 fu un'epoca di rinnovamento che ebbe come esito un conflitto insanabile che comportò poi una separazione nell'Europa occidentale tra protestantesimo e cattolicesimo, il quinto centenario di questa memoria della riforma si situa in un contesto completamente diverso, in un contesto anche in cui l'Europa è completamente diversa, ovviamente, da quella di cinquecento anni fa. Quando siamo partiti noi tutti, Chiese europee, nel 2012, a cominciare a programmare quello che sarebbe accaduto per questo compleanno di mezzo millennio, una preoccupazione fu nel 2012, ma riusciremo questa volta a dare un taglio anche ecumenico a questo centenario. perché rispetto ai centenari passati la grande novità è stata proprio la strada ecumenica che dal Novecento si è potuta percorrere. Nata questa via ecumenica in campo protestante all'inizio del Novecento, siamo arrivati col Concilio Vaticano II negli anni Sessanta e del Novecento anche a un'adesione della Chiesa Cattolica Romana a questa prospettiva, che vuol dire proprio pensarsi, viversi, prospettarsi in maniera diversa rispetto al passato, non più da soli contro gli altri, ma insieme agli altri per capire meglio anche la propria identità. e la risposta che ci siamo dati nel 2010 fu proviamoci, ma non sappiamo se sarà possibile. E anche i primi contatti, ricordo, a livello europeo, anche con i dicasteri vaticani, fu vediamo. Indubbiamente l'elezione di Papa Francesco ha portato qualche prospettiva nuova e degli impegni sono già stati presi. Siamo passati dalla domanda come possiamo celebrare una rottura, una separazione, alla domanda come possiamo insieme comprendere il nostro ruolo e la nostra missione a partire da quell'esperienza del 1500. Abbiamo una disponibilità diciamo centrale vaticana per le celebrazioni che ci saranno in tutta Europa. Per noi, ora, si tratta di verificare che cosa potremmo fare come Chiese protestanti in Italia e Chiesa Cattolica Italiana. Certamente i fatti importanti e i messaggi che ci stiamo scambiando in questi mesi mi fanno pensare che il 2017 potrà essere una tappa molto significativa in cui possiamo lasciare un segno che possa avere degli effetti duraturi perché la nostra società credo che ha bisogno di testimoni autentici della grazia di Dio e una maggiore nostra comunione e non conflittualità ci potrà senz'altro aiutare. Diciamo che io non so esattamente come ma ho la sensazione che siamo sulla buona strada per dare una risposta positiva alla domanda. Credo che sarà possibile fare molto di più di quello che solo pochi anni fa tre anni fa pensavamo di fare persino in Italia non soltanto in Germania e Svizzera che sono state un po' la culla della riforma protestante. Perché ho definito questo sinodo diverso? e l'ho definito diverso perché o particolare perché si è svolto in una situazione con degli eventi che lo hanno particolarmente caratterizzato prima di tutto indubbiamente la visita del Papa nella Chiesa Valdese. Non è la prima volta che un Papa in Italia entra nei muri di una Chiesa protestante. È già accaduto con la visita che fece Papa Giovanni Paolo II alla Chiesa Luterana di Roma anni fa. Ma l'eco che ha avuto la visita del Papa ai Valdesi nel Tempio Valdesi di Torino ha avuto un effetto simbolico molto diverso credo proprio perché i Valdesi rappresentano in questo paese in modo più che simbolico la storia di sofferenza che l'Europa ha vissuto a causa di una comprensione profondamente errata della gestione del dissenso e dei conflitti all'interno della Chiesa. Cioè i Valdesi hanno rappresentato i perseguitati ingiustamente perseguitati da un'autorità ecclesiastica non illuminata dallo Spirito del Vangelo. e il fatto che il Papa Francesco abbia deciso questa visita dando un contenuto col suo messaggio così di alto livello così impegnativo compresa questa richiesta di perdono a nome della Chiesa non dei figli della Chiesa che hanno sbagliato a nome della Chiesa cattolica dicendo che si è trattato di comportamenti non cristiani e persino non umani beh noi l'abbiamo recepito come un atto di grande sensibilità di grande responsabilità e credo che anche l'opinione pubblica in generale ha capito che stava accadendo qualche cosa di particolare noi stessi siamo rimasti colpiti quando abbiamo proposto a Papa Francesco di incontrarci con una visita pubblica sapevamo che era una novità assoluta una prima sapevamo che stavamo chiedendo la realizzazione di un evento speciale ma non sapevamo come sarebbe andata che cosa ci saremmo potuti dire poi ci siamo preparati naturalmente a questo incontro e nell'incontro è avvenuto qualcosa di speciale che ha avuto un seguito noi ce ne stiamo accorgendo questo contesto naturalmente ha caratterizzato questo sinodo per la prima volta siamo partiti come riflessione sinodale come discussione e confronto sinodale sul tema come rispondiamo alla dichiarazione di Papa Francesco quindi non si è trattato non abbiamo trattato il tema ecumenico come un tema tra i tanti temi ma come il tema che ha all'inizio del sinodo ha dato un po' la caratterizzazione anche su come ci concepiamo oggi in Italia l'altro aspetto che ha caratterizzato i lavori del sinodo nella predicazione di apertura del culto quando si parla alla predicatrice ha parlato di spaisamento e poi nella serata di lunedì sera quindi il primo giorno di dibattito sinodale dedicato a questa tragedia immane degli sfollati degli spostamenti di popolazione 60 milioni di profughi che girano per il mondo di profughi perché il fenomeno che stiamo affrontando oggi non è quello dell'emigrazione alla ricerca di lavoro quelli che arrivano in questi mesi in Europa sono quasi al 100% profughi di guerre di violenze di maltrattamenti indicibili beh quest'estate è stata continua a essere un'estate piena di episodi tremendi in cui noi tra l'altro abbiamo particolarmente intensificato anche la nostra azione facendoci però carico anche delle problematiche delle popolazioni che ricevono queste accoglienze e quindi anche oggetto delle critiche di quelle forze politiche che non sono d'accordo con noi io ho partecipato personalmente a una protesta abbastanza aggressiva di un gruppo di destra politica a Scicli in Sicilia il giorno in cui abbiamo inaugurato con tutti i crismi della collaborazione con le istituzioni pubbliche una nostra casa di accoglienza proprio nei luoghi dove arrivano molti di questi profughi e mi sto accorgendo che anche qui in provincia di Torino dove ci stiamo preparando ad aumentare il numero delle persone di cui ci siamo assunti la responsabilità di accoglienza integrata su richiesta delle istituzioni pubbliche anche qui ci sono preoccupazioni che io comprendo benissimo da parte delle popolazioni che in paesi con pochi abitanti vedono arrivare numeri significativi di profughi e abbiamo dovuto fare i conti anche con questa strumentalizzazione politica di alcune parti politiche che ci chiedono conto come se noi appunto fossimo corresponsabili di questo problema parte del problema mentre noi ci sentiamo parte della soluzione di questo problema proprio perché non ci sono o ci sono troppo pochi attori che hanno un ruolo positivo e ci siamo noi beh il sino di quest'anno ha vissuto questi temi con una attenzione un senso di responsabilità che io ho avvertito in modo speciale e c'è stata una riflessione che non ha banalizzato e semplificato proprio nulla non ci sono state espressioni di buonismo sgangherato e realistico perché noi abbiamo i piedi ben piantati nella realtà però appunto siamo chiamati anche al coraggio della risposta al messaggio di amore e di responsabilità di Gesù Cristo quindi un sinodo che ha discusso molto in qualche momento anche in modo ruvido però poi alla fine quando abbiamo dovuto prendere le nostre decisioni le decisioni sono arrivate in modo veramente corale con convinzione ecco speriamo che ci aiuti quindi questo sinodo su questi temi e anche altri che abbiamo discusso che ci aiuti ad affrontare poi nella quotidianità che affrontiamo da questo momento in poi i problemi mano a mano che arrivano con la stessa convinzione unità e fermezza grazie moderatore Bernardini ricordiamo appunto che la predicazione era della pastora Erika Tommassona che si era incentrata appunto sul tema dell'accoglienza e il progetto di cui parlava il moderatore Bernardini è appunto Mediterranean Hope che è un progetto che è stato anche approvato tra gli ordini del giorno della federazione delle chiese evangeliche in Italia sostenuto appunto con l'otto per mille dell'unione delle chiese metodiste valdesi ci sono altre domande da parte dei giornalisti altrimenti se ne ha ancora una prego Simona Menghini freelance volevo chiederle visto che oggi ricorre anche un altro anniversario il 28 agosto di 52 anni fa un pastore protestante come lei Martin Luther King pronunciava il noto discorso I have a dream e volevo chiederle così a botta calda il sogno di Martin Luther King oggi nel mondo e in Italia quanto secondo lei si è realizzato quanto c'è ancora da realizzare e quanto le chiese valdesie metodiste ne abbiamo parlato in maniera diversa di fraternità e di giustizia stanno facendo la loro piccola parte intanto ringrazio tutti voi e facciamo chiudere al moderatore Bernardini con questa risposta ringraziamo Radio Bequita Evangelica Radio Voce della Speranza l'Agenzia Stampa Neve Riforma.it Riforma Settimanale e l'Eco delle Valli Valdesi per il lavoro a questo sinodo la chiusura dunque aspetta il moderatore Bernardini e l'augurio di un buon lavoro grazie ringrazio per questa domanda naturalmente ci sono dei momenti nella storia dell'umanità e anche nella storia dei corpi sociali e quindi anche delle chiese di svolta però purtroppo come accade sempre per le cose umane i fallimenti sono sempre possibili il sogno di Martin Luther King ha consentito di fare dei passi giganteschi non solo da parte della società americana ma anche da tutti coloro che hanno preso stimolo dall'insegnamento e anche dall'esempio di questo predicatore dell'Evangelo pastore battista di una chiesa nera americana io di Martin Luther King però vorrei ricordare un insegnamento che è meno noto forse di quello del suo sogno di un'America libera dal pregiudizio razziale più democratica un insegnamento che lui faceva quando i suoi collaboratori gli dicevano ma non dovremmo essere più prudenti non dovremmo renderci più conto che l'opinione pubblica non è pronta ecco lui diceva che il compito di un cristiano non è assecondare l'opinione pubblica ma formarla portarla avanti farla crescere farla maturare chi vuole avere successo politico può benissimo decidere che il suo programma viene scritto dall'opinione pubblica un predicatore cristiano una chiesa cristiana invece segue dei principi e se l'opinione pubblica va verso un'opinione sbagliata deve formarla affinché vada verso un'opinione equa giusta umana quindi anche questo anniversario naturalmente è motivo di ispirazione per noi sapendo che il cammino non è facile che i problemi sono complessi noi non siamo degli ingenui ci mettiamo però insomma tutta la nostra forza tutta la nostra volontà nel procedere in una direzione che ci sembra coerente con il mestiere di cristiani che noi vogliamo svolgere grazie grazie moderatore Bernardini grazie a tutti voi arrivederci al prossimo sinodo dalla casa valdese di Torrepellice grazie